Il futuro non si dice, si fa, è questo lo slogan dell'edizione 2017 della Festa Nazionale di Liberetà che si è tenuta a Milano. Tre giornate di confronti, dibattiti e premiazioni su temi importanti come il cambiamento, i diritti, la trasparenza, la partecipazione che hanno coinvolto rappresentanti e attivisti del sindacato pensionati SPCGL. I lavori sono stati conclusi alla Camera del Lavoro da Ivan Pedretti e Susanna Camusso. Liberetà è la rivista del sindacato pensionati SPCGL che ogni mese arriva a casa di oltre 150.000 iscritti in tutta Italia. Abbiamo avuto degli incontri di vario tipo, abbiamo parlato di tecnologie, abbiamo parlato soprattutto di futuro ma anche di tradizione. C'è stata anche ovviamente la premiazione del concorso di corti SPISTORIS che è giunta alla quinta edizione e la premiazione del concorso narrativo invece, il premio Liberetà 2017, giunto alla diciannovesima edizione. Ha vinto per il concorso di corti Merve Cirisoglu Cotur, una ragazza turca che ha inviato un cortometraggio animato su la guerra in Siria. La vincitrice del premio letterario Liberetà è stata Anna Rosa Luzzatto con il racconto Quello che so di me, di cui fra l'altro abbiamo appena pubblicato il libro, quindi è stata una bella sorpresa anche per lei. Questo appuntamento annuale è anche un'occasione per rilanciare le politiche del sindacato. In particolare il segretario Pedretti ha evidenziato la riapertura a luglio del tavolo di confronto sulle pensioni con il governo. Si riapre una discussione importante che riguarda in particolar modo le nuove generazioni e noi dimostriamo l'interesse delle vecchie generazioni al fatto che i giovani abbiano un futuro. E il futuro, come abbiamo detto, si fa e noi siamo per farlo e speriamo di avere dei risultati positivi. Per Spicigielle si profila l'avvio di una nuova stagione di lavoro. Il lavoro va costruito a cominciare dalle criticità delle periferie, dal processo dell'innovazione che riguarda le persone, per cui abbiamo un grande lavoro da fare e il sindacato pensionati può crescere ancora di più. Anche quest'anno la festa si è conclusa con la premiazione di decine di pensionati provenienti da tutta Italia che si sono distinti per impegno nella diffusione della rivista. Le pergamene sono state consegnate ai liberativi direttamente da Miriam Broglia e Giorgio Nardinocchi. Tra i premiati il nostro Salvatore Lapenta della Lega di Campeggine, emozionato e felice di questo risultato che ci ha detto deve anche gli iscritti del suo comune. Mi sono sentito premiato fortemente da loro stessi, con la loro gentilezza e con la loro, come devo dire, sentirsi appagati e io di più di loro. La premietà è quella quando ti ringraziano, ti fa sentire, ti emoziona. I riflettori della Festa Nazionale di Liberetà di Milano si sono spenti alla Camera del Lavoro dopo la consueta fotoricordo dei premiati e dello staff che ha organizzato la Carmes.